migliorare così le prestazioni su Fortnite, aumentando così gli FPS e riducendo così il lag su Fortnite quindi in questo caso grazie anche al nuovo pannello di controllo dei settaggi e Nvidia grazie anche al nuovo Nvidia App che ha sostituito così GeForce Experience più il pannello di controllo di Nvidia che trovavi sempre qua sotto una piccola schedina dove andavi a modificare così le impostazioni sul gioco è tutto collegato a questa applicazione in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare così l'applicazione Nvidia App in beta la scarichi, installi, molto semplice e fai l'accesso con un account qualsiasi oppure ti registri, io per esempio ho fatto l'account con Google quindi una volta fatto vai direttamente su grafica e qui noi adesso andremo a modificare le impostazioni su Fortnite cercheremo di aumentare un po' gli FPS tipo per quelli che fanno tra dai 30, 35, 40 FPS fino a 80, 120, 150 FPS possiamo aiutarlo a portare fino a raggiungere quel massimale dei fotogrammi al secondo ok, quindi in questo caso scende fino a giù fino a trovare la tua applicazione, il tuo gioco Fortnite prestazioni, come puoi vedere io l'ho aggiunto su prestazioni, da qualità a prestazioni quindi lo metti qua sopra e metti ottimizza oppure questa qui è automatica, tutta automatica, quindi ti metti le impostazioni tutte automatiche ok, e invece se fai ripristina puoi farlo tu stesso manualmente qui ok, ormai come ho detto il pannello di controllo di Nvidia che trovavi qua sotto è diventato questo solo questo, ok, quindi io ora metto automatico questo eccolo qua, scendo fino a giù, fino a trovare le impostazioni driver eccolo qua, faccio un attimo ripristina ripristino così le impostazioni su Fortnite ridimensionamento, immagine, ci clicco sopra, come puoi vedere questa è la nitidezza risoluzione rendering, nitidezza, puoi attivarla e metterla al 0 e vedere un po' come è Fortnite nel gioco se si vede malissimo però fai più FPS io ti consiglio di metterla disattivato e fai applica poi c'è la frequenza fotogrammi massima qui se metti uso e impostazioni globali disattivato però se metti attivato lo metti fino a 1000 non è che farai 1000 FPS però aggiungerà qualche 20, 30, 40 o 50 FPS in più al gioco quindi ti consiglio di provarlo prima con 1000 FPS e poi fai applica e vedi come è Fortnite se non ti piace vai su disattivato, fai applica e riavvi Fortnite tecnologia monitor io ho la compatibilità G-Sync sulla mia scheda e sul mio monitor e metto compatibilità G-Sync per quelli che hanno un portatile globale potenza ottimale per la gestione dell'alimentazione della batteria mettiamo preferisci prestazioni massime sincronizzazione verticale se in questo caso ti ritrovi con Fortnite gli FPS bloccati vai su Fortnite gli FPS non si sbloccano è colpa di qualche pannello di controllo che hai sul tuo PC che controlla così la tua scheda grafica e quindi ti ritrovi con 60 FPS bloccati usa impostazioni dell'applicazione 3D disattivato basta sincronizzazione verticale disattivato FPS disattivati cioè proprio il blocco degli FPS è disattivato una volta fatto metti ottimizza su prestazioni ora non ci resta che andare direttamente su Fortnite e fare nuove modifiche assieme a queste qua una volta fatto andiamo direttamente sulle impostazioni di Fortnite quindi in questo caso impostazioni ed eccolo qua video schermo intero risoluzione se abbassi così la risoluzione farei FPS v-sync no limite frame rate illimitata modalità di rendering DirectX 11 scendi fino a giù fino a trovare il motion blue no qualità grafica pre-impostazioni qualità metti ridotto vai applica l'antiagliosing super risoluzione questa metti su no risoluzione 3D mi raccomando il rendering deve essere alto se hai problemi con il rendering puoi sempre abbassarlo te lo consiglio su 75 e fai applica ombre togli illuminazione globale togli riflessi no distanza visuale vicino texture mettilo su medio fai applica post processing ridotto effetti ridotto mostra FPS mostra gli FPS durante il gioco indicatori di latenza mostralo invita reflex e bassa latenza e mette on più boost quindi in questo caso vedrai forte come puoi vedere la texture del personaggio è molto cambiata come puoi vedere gli occhi del personaggio sembrano molto sfogati regati con un quadratini sotto all'occhio non è neanche ben renderizzato quindi stessa cosa sarà la grafica sul gioco come ho detto se hai problemi con la grafica poi puoi sempre fare restore quindi vai direttamente il restore sul nvidia profile e spectro oppure fai direttamente la verifica al gioco quindi farà anche un ripristino a fortnite se non dovesse bastare vai direttamente su esegui percento app data per cento questo è per ripristinare tutto da capo vai su app data local scendi fino a giù fino a trovare la cartella di fortnite tu cancelli così la cartella di fortnite farà un ripristino di fortnite chiudi qua e potrai fare la verifica al gioco quindi la verifica al gioco si fa qua sopra libreria tre puntini e c'è scritto proprio la verifica quindi se questo video è stato utilissimo su come aumentare i fps su fortnite riducendo così la grafica grazie alle impostazioni di nvidia iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao